Ciao ragazzi io sono Ara e benvenuti in questa nuova recensione e beh sì oggi abbiamo tra noi il nuovo War Machine per la linea Marvel Legends nella sua versione più classica io per questa recensione devo ringraziare tantissimo il mitico Alexander che non solo ha acquistato l'unica copia disponibile da me quindi purtroppo non potrete trovarla sul mio sito però potete sempre dare un'occhiata la trovate qui sotto in descrizione ma dicevo non solo ha acquistato questa copia ma addirittura mi ha permesso anche di recensirla quindi lo ringrazio veramente di cuore perché non è da tutti comunque andiamo a vedere la confezione ma prima ragazzi volevo dirvi di seguirmi su Instagram trovate il mio Instagram qui sotto nella descrizione oppure comparirà anche sullo schermo perché vi invito a seguirmi anche lì perché pubblico quasi ogni giorno contenuti esclusivi tra foto e anche le storie diciamo che raccontano un po' la mia giornata quello che faccio insomma vi tengono sempre aggiornati però soprattutto ci tengo tanto che vediate le mie foto comunque la parte frontale l'abbiamo vista a sufficienza questo qui è uno dei lati con questo splendido disegno questo qui è l'altro lato con lo stesso disegno questa è la parte superiore e questa qui è la parte inferiore questo qui è il retro della confezione con questa immagine veramente pica del nostro War Machine e con questa piccola biografia che se volete leggere potete mettere in pausa adesso ma direi di non perdere altro tempo andiamo subito a vedere la nostra figure fuori dalla confezione eccoci qua ragazzi e queste sono le figure che piacciono a me piene di chicche, piene di accessori intercambiabili e varie possibilità per posarle allora andiamo a vedere subito gli accessori partiamo con questi che sono dei mini effettini allora un attimo vi faccio vedere perché sono talmente piccoli che sfuggono di mano abbiamo questi due qui vedete questi mini effetti di fuoco che si possono inserire vi faccio vedere subito sia qui nel mitragliatore che ha sul braccio in questo cannone doppio che ha sul braccio oppure si possono inserire anche volendo su questi razzi questo qui è un altro accessorio ve lo faccio vedere è fighissimo, è un effetto questi razzi che partono con questa scia veramente fighissima comunque dicevo si possono staccare questi razzi e volendo si può inserire questo effetto qui per fare questo razzetto appunto che sta partendo da solo quindi questa è un'altra possibilità oppure ancora ci sono questi altri due effetti vedete eccoli qui con questo fumo trasparente anche questi volendo si possono vedete inserire in questi razzetti eccoli qui magari appunto facendo il razzo che diciamo si è posato da qualche parte non è esploso e sta uscendo il fumo oppure ancora naturalmente si possono inserire anche su questo cannone qui in modo che vedete faccia l'effetto del cannone che abbia appena sparato quindi sta uscendo il fumo anche questa è veramente una figata per quanto riguarda quest'altro effetto ragazzi vi farò vedere dopo dove si mette insieme agli altri e anche questi poi ve li farò vedere dopo abbiamo questa vedete effetto di fuoco che sembra un effetto di propulsione ma in realtà non lo è molto ben realizzato e poi abbiamo quest'altro effetto di fuoco sparante che si andrà a mettere sul cannone poi vedremo il nostro warmash con tutti questi effetti addosso per il resto abbiamo una testa intercambiabile del mitico Rudy a viso scoperto naturalmente molto ben realizzata mi piace un sacco anche come hanno scolpito i capelli vedete con queste linee laterali devo dire che non è male peccato non ci siano sfumature sui capelli e poi abbiamo queste che sono le chicche finali ovvero questi due effetti che possono fungere da base perché si collegano sotto i piedi del nostro warmash e quindi lo tengono sollevato per aria diciamo ma la chicca incredibile è questa ragazzi questi effetti si possono rimuovere da qui dentro e si possono usare appunto come propulsione mentre vola warmash questa è veramente una cosa che non mi aspettavo assolutamente e sono rimasto piacevolmente sorpreso tra l'altro gli effetti anche sono realizzati molto molto bene con questa sfumatura vedete più scura del fumo che poi si schiarisce e poi va a finire in questi effetti di propulsione figata ora andiamo a vedere il nostro warmash più nel dettaglio ecco qui questo qui è il casco fatto benissimo comunque rispecchia praticamente alla perfezione il warmash più classico diciamo così peccato come al solito che non ci siano sfumature sul painting dell'armatura in realtà non c'è praticamente painting come purtroppo è classico di queste legends per la maggior parte l'unico painting che c'è vedete è appunto la parte la maschera si può dire così del casco argentata e poi queste parti rosse comunque come vedete è dotato di questi cannoni sulla schiena molto fighi che hanno la particolarità di essere articolati vedete in questo modo qui questa è un'altra chicca veramente fighissima possono muoversi in questo modo qui e possono andare leggermente in alto e in basso anche per il resto ragazzi vediamo il cannone sul braccio sull'altro braccio invece non c'è nulla e qui vediamo gli stivaloni qui non c'è modo di attaccare nessun effetto purtroppo e vediamo che naturalmente hai i fori sotto i piedi appunto per attaccare gli effetti di propulsione comunque devo dire che nel complesso la resa della figura è buona anche se ripeto non c'è painting è figo che abbiano utilizzato almeno questa miscela di plastica che diciamo dà un effetto argentato comunque adesso vediamo le articolazioni a parte questi cannoni la testa può guardare verso l'alto in questo modo qui devo dire che non è male forse un pochino di più sarebbe stato meglio può guardare anche verso il basso fino a qui può morsi lateralmente in questo modo e può ruotare lateralmente in questo modo qui per quanto riguarda le braccia possono aprirsi lateralmente in questo modo come vedete la spallina si muove liberamente quindi non ostacola il braccio c'è la rotazione naturalmente a 360 gradi rotazione al bicipite articolazione doppia qui al gomito rotazione al polso e piegamento al polso a mezzo busto c'è un'ottima articolazione di piegamento in avanti e anche all'indietro c'è rotazione qui alla vita il piegamento della gamba in avanti piegamento all'indietro verso l'esterno però per via dello scalto abbiamo l'apertura laterale quasi massima rotazione qui alla parte superiore della coscia piegamento doppio qui al ginocchio abbiamo il piegamento del piede in su piegamento del piede in giù e rotazione laterale della caviglia in questo modo e ora ragazzi andiamo a misurare l'altezza di questa figura stiamo praticamente sui 16 centimetri spaccati ovvero 6 pollici e mezzo o qualcosina in più se contiamo i cannoni arriva fino a 17 eccola qui a confronto con il mitico monnezza spider-man marvel select e con lo spider-man 2099 marvel legends oh ed eccolo qui fierissimo che girella sulla basetta rotante al completo con tutti i suoi accessori inseriti guardate che spettacolo perché ho detto queste sono le figure che piacciono a me perché ragazzi tutti questi accessori sono veramente delle chicche allora cominciamo a dare i voti alla nostra figure partiamo appunto dagli accessori qui ragazzi devo dare un 9.5 perché siamo quasi al massimo manca solo la basetta che in realtà si potrebbe dire che quei propulsori sono la basetta però dai ci sta il 9.5 per quanto riguarda le articolazioni sono le solite delle marvel legends delle ottime articolazioni non perfette assolutamente ma possono fare praticamente qualsiasi movimento quindi un 9 pieno ci sta per quanto riguarda l'estetica ragazzi allora la figura è ben fatta però purtroppo manca di sfumature manca di dettagli alla fine diciamo che è il minimo indispensabile come al solito quindi devo dare dai un 6.5 quindi il voto finale per questa figure dato più o meno dalla media dei voti è comunque un 8.5 quindi un grandissimo voto per una legends devo dire che è tantissimo soprattutto da parte mia io non ce l'ho con le legends ragazzi però quando fanno un bel lavoro tipo questo war machine sono da premiare assolutamente io spero che ne facciano sempre di più accessoriate in questo modo e spero anche che si impegnino sempre un po' di più con i dettagli e col painting comunque ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo war machine con un commento qui sotto il like al video è sempre caritissimo così come anche la condivisione io ringrazio ancora una volta il mitico Alexander per aver permesso questa recensione noi ci vediamo alla prossima ciao da Arada, war machine e collezionate sempre